Questa mattina l'Assemblea dei Soci di TEA ha approvato all'unanimità il bilancio dell'esercizio 19, un bilancio che anche quest'anno dimostra la grande crescita che ha segnato il nostro gruppo in termini sia di utile che verrà distribuito ai soci, ma anche di investimenti effettuati a favore del nostro territorio. Circa 32 milioni che andranno poi a incrementare gli impianti e le infrastrutture che in tutta la nostra provincia TEA consolida ogni anno. Anche nei confronti dei dipendenti, a parte questo particolare momento terribile sia per le nostre famiglie, le nostre comunità e per le attività, hanno dimostrato un grande attaccamento alla società e ringrazio i 572 dipendenti di TEA che grazie al sacrificio, all'impegno è costante e alla sfida presenza anche in questi mesi di emergenza sanitaria non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e la propria grande importanza.